E ciao a tutti, eccoci qui, noi siamo il MM8 e il mio padre è Claudio, ciao pa! Ciao a tutti! Oggi ci siamo già visti con un video a sorpresa, sia per voi che l'avete visto, ma anche per me, perché comunque, insomma, non me l'aspettavo, però meglio così, chi ha visto il video sa di chi sto parlando, chi non l'ha visto è qui nel canale e andatevelo a vedere, insomma, scoprirete tutto. Comunque, siamo qui per commentare la partita della Juve, dei Gobbi, finita 4 a 2, proprio nel finale, ha segnato lo Zenit. Adesso ne parliamo, allora, prima di parlarne, però io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanella per non perdere mai nessuna notifica del mio canale, di seguirmi su Instagram e su Facebook e di seguire anche la mia playlist di Spotify. Allora, Juve Zenit 4 a 2, che dire pa? Eh, che ha giocato solo la Juve. Un sacco di azioni, non concretizzate, nel primo tempo, al settimo Bernardeschi tira addosso al portiere, poi c'è stato lo show di Dybala al nono, che ha preso il palo, all'undicesimo Dybala fa l'1-0. Poi, come hanno fatto, non lo so, se non ci pensava Bonucci, quelli là non avrebbero mai segnato, nel primo tempo, proprio, però Bonucci è riuscito a fare un autorete 1 a 1, su un cross di testa, l'ha deviato nella sua porta. Vabbè, ci sta, capita a tutti, ad essere sincero, capita a tutti. Comunque, autorete di Bonucci si va così al riposo. Inizia il secondo tempo, sempre la Juve attacca. Poi c'è il solito episodio scandaloso, perché il rigore è regalato al cinquantasettesimo. Non solo. Non solo è regalato, è regalato due volte. Primo perché Dybala l'ha sbagliato, ha tirato fuori. E l'abito lo fa ripetere perché è un giocatore al piede dentro l'area. Cioè, ha tirato fuori. Non è che è intervenuto il giocatore, è stato ribattuto, il giocatore era in area. Se il portiere l'avesse ribattuto, ok, ci sta. Ma tirandolo fuori è stato ininfluente quello. Non era assolutamente da fare ribatte. Comunque, la Juve, sappiamo com'è, non è che non è una novità. Al 61esimo Dybala sfiora il palo di nuovo. La prima parata di Cesni c'è al sessantasettesimo, che è negli atti in calcio d'angolo. E poi al 69esimo di nuovo un'altra parata di Cesni, sempre in angolo. Al 72esimo, traversa di McKennie. La Juve attacca sempre, non è che... Ha giocato solo la Juve. Sennò nel finale che lo Zenit ha fatto vedere qualche cosina, forse perché ha mollato un po' la Juve. Però... Così, sul finale. All'82esimo Morata fa il 4-1. Non mi hai parlato del terzo gol che l'ha fatto Chiesa. L'ha fatto? Ah, sì, sì. Il terzo gol che l'ha fatto Chiesa. Sì. Sì, sì. Tu che mi hai detto che... In quel momento c'è stato un problema, abbiamo avuto un problema se si è fermato lo streaming. Però poi, per fortuna, siamo riusciti a... Sì. All'73esimo Chiesa fa il 3-1. E tu mi hai detto dubbio, comunque, da rivedere. Insomma. All'8... sì, millimetrico. Quasi in fuorigioco. Comunque, non lo era. All'82esimo, appena 5 minuti dopo, Morata fa il 4-1. Nel recupero... Come stavi dicendo, sul finale lo Zenit, insomma... Sì, nel 91esimo ha fatto il 4-2. Asmund. Niente, sul finale ha fatto qualche azione, ma ripeto, la Juve ne aveva già 4. Probabilmente c'è stato anche un calo di gioco della Juve. Ne ha approfittato un po' lo Zenit per fare questo gol. Via, per raccorciare un po' il risultato, renderlo meno pesante. Finisce così, 4-2, ci sta. Ha la Juve meritato, ha strameritato, non meritato, strameritato. Però se non c'è sempre l'episodio veramente orrendo, è uno schifo, proprio brutto. Non era il caso in una partita così di regalare. Ha tirato fuori, boh, ha tirato fuori, basta. Già a rigore, dato che, ma non lo so, l'ha fatto vedere, non sembra neanche che lo tocca. Comunque, lasciamo stare all'interpretazione dell'arbitro. Però lo tira fuori, basta, fuori, fine. Perché devi andare ancora con una partita così, stradominata della Juve, a rovinarla, a macchiarla di un episodio brutto. Vabbè, dai, comunque, bravi Gobbi, continuate così, soprattutto in campionato. Soprattutto in campionato. Eh sì. Perché con il giro dei Champions che avevate si sapeva che sareste passati comunque. Vabbè, dai, vedremo. Eh, ormai se non sbaglio, no, ma non sbaglio perché l'hanno anche detto in televisione, sono matematicamente passati. Sì, anche se pareggiavano, erano matematicamente passati. Per cui. Va bene, noi ci vediamo domani con, alle sette e mezza, le dieci tracce anni 90 e 2000 mixate da me. E domani sera il video dei post partita di Milan Porto. e domani sera ci siamo anche noi, per cui parleremo sicuramente anche e soprattutto dell'Inter. Speriamo bene. Speriamo bene, esatto. Ciao da MM8 e da Claudio. Ciao a tutti.